A distanza di un anno e mezzo ritorna il derby cilentano di Serie D tra la Gelbison e il Santa Maria Cilento. L'ultima volta le squadre si erano incrociate nel giorno in cui la formazione Rosso-Blu, dopo aver centrato la storica promozione in Serie C, riceveva il meritato abbraccio dei propri tifosi nell'impianto del Morra a Vallo della Lucania. Una giornata di festa parzialmente rovinata dai cugini di Castellabate che spugnarono il terreno vallese con una netta affermazione. Dopo una sola stagione in C, la Gelbison è ritornata nella quarta serie e in questo torneo si ripropone il derby in salsa cilentana. All'appuntamento in programma domenica al Carrano di Castellabate, i padroni di casa arrivano con soli due punti, frutto di altrettanti pareggi, per cui vanno a caccia della prima vittoria stagionale e ottenerla nella sfida con i più quotati avversari avrebbe un gusto particolare. Il trainer dei padroni di casa Ferullo dovrà rinunciare ad Anzillotta, fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo aver rimediato un'espulsione nel finale del match col Matera. Di contro la Gelbison, che non nasconde le proprie ambizioni, dopo una sconfitta nel turno inaugurale ha ottenuto un pareggio e due vittorie consecutive che l'hanno riportata al ridosso delle migliori. Per questo match però dovrà registrare un'assenza pesante. Il bomber croce, quattro reti nella classifica dei cannonieri, non sarà della partita. Sarà out infatti per squalifica dopo la doppia munizione rimediata nel finale della gara vinta con l'ex capolista. E l'assenza di croce potrebbe portare il tecnico rosso-blu a modificare l'assetto tattico, rivedendo il 3-5-2. Grande attesa dunque per la partita. I tifosi della Gelbison sono stati riservati 140 tagliandi e non saranno concessi biglietti omaggio. Il fischio d'inizio è stato posticipato di un'ora. Si partirà alle 16.